Queste sono le mucche di Giacomo Frigimelica, il gestore di Malga Framont e a breve saliranno in alpeggio per l'estate ad Agordo insieme a qualche altra decina di capi. La vita degli allevatori di montagna però non è semplice e per quanto riguarda la gestione della Malga ci sono alcuni problemi. Per il momento però Frigimelica non ha intenzione di rinunciare al suo utilizzo. Assolutamente non lascio la Malga subito e non è detto che debba lasciarla anche negli anni a venire perché è una questione di aggiustare le cose. Il problema principale è una riduzione dell'estensione riconosciuta per il Pascolo e quindi dei contributi. Il problema della Vepa che ha fatto una decultazione della superficie a Pascolo all'inizio da 105 ettari a 70 e qualcosa ettari e adesso seconda botta, fra virgolette, siamo arrivati a 41 ettari. Le superficie a Pascolo sotto chioma loro non la ritengono tutta fruibile, invece ci sono stati casi in cui appunto è stata vinta delle contestazioni e hanno portato un decultamento al massimo del 20% del Pascolo sotto chioma. Gli animali preferisco pascolare sotto le piante che all'aperto. Togliendo superficie a contributo si sa bene che non si va in Malga per il piacere di farlo. Con i margini che sono sempre più risiccati, se c'è un po' di contributo si sta in piedi, se no è meglio stare a casa a farsi i propri interessi. C'è poi il tema dell'affitto, quei 10.700 euro da pagare al Comune per i tre mesi in Malga. La precedente amministrazione del Comune di Agoldo ha fatto un bando in cui in pratica avevano raddoppiato il costo del precedente bando. Che era però per 105 ettari. Durante quel periodo è stato portato a 70 euro di ettari. Decade il contratto, riparte con il nuovo bando e il bando parte con il doppio. Però noi avevamo anche le domande in tinere e per cui ci siamo trovati a condizione di dover pagare quel raddoppio.